Io, chi si annoia? Io. Chi è che gli fa un esame? Io. Bene, su tutta alca. Sarà un video senza togli perché non so farli e quindi ogni figura di merda la vedrete dal vivo. Partiamo con i numeri complessi. Da dove nasce la necessità di inventarsi i numeri inventati? Quindi, dal fatto che le equazioni del tipo x quadro uguale a, se hai negativo, un numero al quadrato non può essere negativo. Quindi, l'insieme dei reali non è un campo algeplicamente chiuso. Dovremmo inventarci qualcosa che sia algeoricamente chiuso, ossia che tutti i polonomi che io posso fare dentro abbiano sempre soluzioni in questo qualcosa. Quindi, si decide di chiamare i, non so perché i, penso l'abbia fatta Euler, però di solito l'abbia chiamata E, ma c'ha già forse l'omodo di Euler. Come la radice quadrata di meno 1. Notiamo che i al quadrato vale meno 1, ma non è la definizione, è una conseguenza. Bene, e si decide di chiamarla parte immaginaria, unità immaginaria. Quindi, ogni numero reale è un numero del tipo A più 0 volte IB, è un numero puramente reale. Un numero puramente immaginario è un numero alfa volte I più 0, mentre invece i numeri complessi sono tendenzialmente quelli della forma A più IB. I numeri complessi hanno tante forme, perché ci sono tanti modi per essere visti. Il primo è appunto questo, è una dataforma algebrica, A più IB. Ok, notiamo che, di nuovo, se io ho bisogno di disporre i numeri complessi in modo visuale, di quanti parametri ho bisogno A e B, dato che I è sempre la stessa, una volta conosciuta quella basta, non è che devo più calcolarla o scriverla. Quindi, come se fossero due assi, l'asse A e l'asse B, in particolare lo chiameremo asse reale e asse immaginario. Quindi, sembrava tanto grosso, ma in realtà lo sto zoomando. Bene, quindi il nostro sarà una cosa del genere. Asse reale e asse, qua c'è la unità immaginaria, qua c'è il numero 1, qua c'è la nostra unità immaginaria I. Quindi, ogni punto lo posso scrivere così. Avrà una certa componente reale, una certa componente. Ma, se voi vi ricordate, possiamo anche definire, proprio questo punto qua, in altri modi. Abbiamo le corrette polari, abbiamo le corrette cilindriche, se ci fosse un'altezza. In particolare, le corrette polari, cosa ci direbbero? Cioè, basta, per questo punto qua, identificare la distanza e l'angolo. Quindi, esiste un altro modo per descrivere gli angoli, con questa distanza e quest'angolo. E, in che modo? Noi sappiamo, abbiamo A più B. A è la parte reale, quindi è la proiezione di D lungo l'asse reale. Mentre, invece, la parte immaginaria è la proiezione di D lungo l'asse immaginaria. Quindi, con la trigonometria se ne esce, però, per farmi venire prima, ovviamente, qua c'è scritto, quindi non sto a farlo. Beh, ci sarà dopo. Ok, cosa che notiamo? Se I al quadrato è uguale a meno 1, quanto fa io al cubo? Meno I. I alla quarta vale I. Ok, continuiamo così, abbiamo questa serie qua. I alla 1 fa I, poi abbiamo meno 1, poi al cubo abbiamo meno I, poi abbiamo 1 e poi si ricomincia. Quindi, calcolare le potenze di E è molto facile. I alla 127, basta vedere se è un multiplo di 4 o no. Anche questo. E, ok, adesso. Voilà, asse immaginario, asse completo. Alcuni numeri vengono chiamati coniugati complessi di altri numeri. Quali? Quelli che hanno la parte immaginaria cambiata di segno. Quindi, se mi trovo qua, basta andare all'emisfero sotto. Se mi trovassi qua, basta cambiare l'emisfero. Mi trovavo qua, così. Notare che i numeri reali sono quei numeri che hanno coniugato uguale a se stesso. Perché se mi trovo l'altezza 0, e faccio il punto di simmetria rispetto all'asse X, mi ritrovo sempre su me stesso. Quindi, è anche un ottimo modo per dimostrare, in futuro lo vedremo, se un numero è real o no. Per esempio, gli autovalori, gli endomorfismo, gli analizzabili, cazze mazzi. Il coniugato ha alcune proprietà, che se tu coniugli una cosa due volte, ottieni se stessa, grazie bellino. Il coniugato della somma è la somma dei coniugati. Il coniugato del prodotto è il prodotto dei coniugati. Adesso parliamo di questa distanza qua. La distanza viene chiamata norma, ma noi, fino a questa slide qua, non sappiamo cos'è una norma. Quindi, facciamo finta di calcolare la distanza tra questi due punti qua. Questa ha coordinate A più B, e queste qua ha B, basta fare A al quadrato, più B al quadrato, e tutto sotto la dice, per il teorema di Pitagora. Allora, qua spiegavo un pochettino cos'è. Ok, quindi chiamiamo questa distanza R la radice di A al quadrato più B al quadrato, della norma del vettore. E la norma è che è sempre maggiore o uguale di 0, e ha senso perché un vettore non può avere lunghezza negativa, però può avere lunghezza 0. Quando? quando è 0. Cioè, se io faccio un punto in 0, qual è la sua distanza da 0? Non c'è distanza, è 0. Ok. Il modulo abbiamo parlato. Va bene. Ah, ok. Queste le ripeteremo, sono importanti. proprietà del modulo. Oddio. Ok, proprietà del modulo. La prima si chiama diseguranza triangolare. Ah, non c'è quella di sfarce. Vabbè. Avremo bisogno poi delle forme bilineari per parlare della diseguranza di sfarce. Allora, cosa dice la diseguranza triangolare? è che tu non puoi costruire un triangolo dove i due cateti siano più corti dell'ipotenusa. Aspettatemi. Fatevo disegnare. Uno, due, tre. Ok. Esatto. Questo che ho detto qua, A più B più C. Se ho il srotolo, ho A e B. Ok, la loro somma non può essere più lunga dell'ipotenusa. Grazie al cazzo sarà il triangolo che lo puoi fare. Come lo scrivi? Scrivi che la somma deve essere minore della somma di singolo di ore assoluto. Questa la usi tantissimo in analisi tu all'inizio. Quindi, ok. Vediamo come possiamo chiamare in altro modo i numeri complessi. Una volta che io ho il mio numero A più IB posso raccogliere il modulo, no? La sua distanza è R. Da questo. Quindi ottengo A su R più IB su R. Perché la scrivo così? Non è che voglio complicare le situazioni. Perché si vede che esiste un unico angolo per cui questa roba qua è uguale a R per il coseno di quell'angolo più IB volte il seno di quell'angolo. Ed ecco come abbiamo trovato θ. Così. Da qua abbiamo un'informazione sappiamo che il coseno è uguale a A su R ma, di nuovo, il coseno magari quando è che il coseno vale radice 2 su 2? Eh, minchia, può valere sia qua che che qua. No, i due simmetrici che ovviamente sono i due coniugati. però se il seno ci dice che è più radice 2 su 2 allora sappiamo che è quello di sopra e non quello di sotto. E questo è il modo per trovare angolo e coso. C'è un modo per trovare θ? Sì, sarebbe l'arco tangente di meno IB su A però e anche R sarebbe eh, R lo sappiamo è il modulo quindi è l'artice della norma. Però, voilà. Questo è la forma trigonometrica. La forma trigonometrica si presta molto meglio ai calcoli. In ordine abbiamo la forma trigonometrica per utilità la forma algebrica e la forma esponenziale cioè ormai è solo per le potenze. Ok. Cosa? Come si usa? È comoda per farci le potenze perché se io faccio z al quadrato ovviamente il modulo lo devo fare al quadrato che non muovo così ma l'angolo non devo fare al quadrato devo moltiplicarlo per la potenza quindi al quadrato diventa due teta al cubo tre teta alla quarta però alla quarta per il coseno di quattro teta ok e vabbè poi fa vedere come il complesso coniugato appunto basta che tu ci cambi l'angolo però il coseno è una funzione pari quindi coseno di meno teta è uguale al coseno di teta mentre invece il seno se lo porta fuori quindi ha solo la parte immaginaria specchiata. Ok. Il prodotto è abbastanza facile dovete sapere un po' di trigonometria la divisione idem somma e differenza di angoli e l'elemento a potenza ve l'ho spiegato e adesso sono sicuro che ci spiegherà le radici ok quando abbiamo un'equazione x alla n uguale a z ci verrebbe a dire x uguale radice ennesima di z perfetto ma la domanda è cosa cosa significa radice ennesima di z bene si fa così allora una cosa carina è che le radici formano una figura regolare sempre quindi se io x uguale radice ennesima di z devo fare così devo prendere le z che è questa forma qua e fare la radice ennesima nel suo modulo perché questa è come se fosse un numero reale poi abbiamo coseno di cosa di teta ma dobbiamo contare appunto questa cosa qua che se io mi sposto lungo i coniugati non cambia la radice è sempre lo stesso valore quindi abbiamo 2k pi greco su n idem per il seno più i volte il seno di 2k pi greco su n e ovviamente questa deve valere perché c'è un k perché vale con la moltiplicità e se io ho una radice ennesima devo aspettarmi ottenere n soluzioni come lo ottengo n? questo sto facendo variare k k varie tra 0 e n-1 perché n-1 perché tra 0 e n-1 ci sono n elementi perché 0 va al contatto quindi la prima è la radice ennesima per il coseno di teta poi la radice ennesima per il coseno di teta più 2 pi greco su 1 più poi coseno di teta più 2 per 2 fa 4 pi greco diviso diviso 2 eccetera eccetera ok vedete si formano sempre queste cose qua forma esponenziale ok questa è l'identale di Olero ovviamente c'era una battuta che era in matematica in matematica si dà il nome alla seconda persona che ha usato o scoperto quella cosa lì dopo Eulero o Gauss ok va bene questa mi pare un po' incompleta di solito c'è un modulo qua no? un R per coseno di teta più di sin teta quindi aspettate anche un raggio qua perché E alla I teta sono sempre cose di modulo 1 eccolo ok ho trovato modulo è un pochettino più facile perché se vuoi fare le potenze il prodotto tra i numeri complessi basta basta usare le proprietà delle potenze ok esercizi 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 cenni sulle equazioni algebliche no 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 oh beh no allora va bene facciamo qualcosina allora teorema fondamentale dell'algebra ogni equazione algebrica abbiamo una dice complessa grazie al cazzo ossia il campo c è algebricamente chiuso quello che è da vedere è se le radici che sono complesse a priori sono complesse nel senso vero che sono un numero a di b oppure se sono complesse ma i loro coniugati a se stesso quindi in realtà hanno parte immaginaria nulla quindi in realtà sono numeri che noi chiamiamo reali ok esercizi spesso ti danno una radice e ti dicono trovati le altre no e qua bisogna fare corso alla divisa tra polinomi è uguale alla divisione euclidea occhio a scriversi coefficienti per questo io preferisco il teorema di ruffini perché io coefficienti li sminchio mentre invece il teorema dei ruffini basta copiare e fare un segno della croce non sto scherzando mi invento una cosa per esempio 1 meno 3 no aspetta posso essere anche poco sensato 1 meno 5 6 che equivale al polinomio x al quadrato meno 5x più 6 e per esempio metto 3 ok come si fa si abbassa questo 1 questo qua fa 3 la somma fa meno 2 li moltiplico loro ottengo meno 6 fa 0 cosa significa? ho preso il polinomio 1x al quadrato meno 5x più 6 e l'ho diviso per il polinomio x meno 3 e ho ottenuto x questo qua deve abbassarsi di un grado meno 2 quindi x meno 2 per x meno 3 è uguale a x quadro meno 5x più 6 è uguale a divisione tra i nomi va bene ah c'è anche i termini ruffini ok dai 8 su 12 esercizi corollari esercizi non ci penso nemmeno cazzo ah allora sono d'accia bene ciao lascia la pagina ok partiamo dalle funzioni cosa devo dire delle funzioni? sapete mai di me come si fanno ma andiamo a vedere i sistemi i sistemi nascono le matrici nascono da questa idea qua carina che se io ho x più 2y più 3z uguale x meno meno x meno 2y meno 2z questo qua uguale 5 questo qua uguale 4 è x più 2y più z uguale 6 no aspetta x sta cosa qua se voglio fare i calcoli più velocemente allora se io sono al liceo mi dicono perfetto devi riscrivere il sistema come? semplificando fa somma l'equazione 1 e l'equazione 2 non ti dicono perché non ti copre come però facciamolo otteniamo 0x più 0y più z uguale 9 ah ma quindi z uguale 9 allora in questa qua tu sostituisci 9 9 e 9 e allora poi fai lo stesso di qua di là e ti trovi i vari valori però se tu ci pensi che palle di scrivere cose di nuovo anche Ruffini non pensava basta che io mi scriva solo i coefficienti se io scrivessi 1 2 3 lascio un po' di spazio 5 meno 1 meno 2 meno 2 4 e 1 1 1 6 questa questo oggetto qua io posso fare la stessa cosa che ho fatto prima ho sommato le righe quindi per esempio sommo la prima ottengo 0 0 1 9 e poi ottengo questa la lasciamo uguali solo per parlare 1 1 1 6 ok e devo ricordarmi che cosa significa questa insieme di numeri che ho scritto mi scrivo qua i coefficienti della x qua della y qua della z e qua c'è un uguale quindi occhio vedo z uguale a 9 però adesso un pochettino più facile perché di nuovo posso riscrivere il sistema 0 0 1 9 magari fare la somma di queste due e ottengo 0 meno 1 e lasciamo così ecco l'ho già sbagliato meno 1 10 1 1 1 6 ok che cosa mi semplifica che mi sono tolto l'x di questa equazione e dai faccio ancora l'ultima cosa vediamo 0 0 1 9 adesso sommo queste due quindi ho 0 meno 1 0 19 ok cosa mi ricorda questa cosa qua qua è 1 1 1 6 mi ricorda che z vale 9 questo qua è un meno 1 per y uguale 19 quindi posso scrivere anche posso moltiplicare tutta l'equazione per meno 1 oppure se fossero equazioni x uguale a sposto la destra ottengo 0 uguale a meno x e questo lo sposto a sinistra meno a uguale meno x in ogni caso moltiplico per meno 1 ottengo più 1 e meno 19 quindi ottengo che y una volta y uguale a meno 19 perfetto a sto punto se sono furbo sostituisco qua se voglio usare le matrici che sto creando allora dico perfetto allora devo fare questa riga meno quest'altra in questo modo ottengo 1 0 0 e 19 più 6 fa 25 scrivo un attimo così e scusatemi 1 poi per togliere questo 1 qua devo togliere la prima riga quindi 1 meno 0 1 0 meno 0 1 meno 1 che fa 0 e 25 meno 9 che fa 16 voilà ho trovato che una volta x fa 16 e ho risolto il mio sistema quindi molto più facile che riscriversi ogni volta un sistema in mezzo dobbiamo 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 parlare delle proprietà di queste matrici che da una parte sono proprietà perché sappiamo fare le equazioni e no problem dall'altra invece hanno anche delle proprietà loro quindi le matrici hanno delle righe e delle colonne quindi una matrice che ha n righe e m colonne la scriviamo come una matrice n per m i numeri li puoi identificare così esistono matrici di ogni forma sono rettangolari di solito anzi sono sempre rettangolari in caso particolare è se numero di rigo molto significato ossia qua è in equazione che per esempio x più y più z più t più w più a più b più c più d più e uguale a 6 trova abc df ghi esistono un sacco di soluzioni questa invece è una soluzione è un'equazione un po' strana perché magari si dice x uguale a 1 x più y ah no x uguale a 1 x uguale a 2 x uguale a 3 x uguale a 3 sono cose un po' strane ma in pratica in realtà cosa ci servono identificano i vettori di r alla n ok sulla matrice identifichiamo la diagonale principale e la contro diagonale e diamo dei nomi alle matrici particolarine se ci sono solo zeri al di sotto della matrice diagonale per esempio qua allora la chiamiamo triangolare superiore perché questi numeri no non ci riesco formano un triangolo idem al di sopra ci sono solo zeri allora c'è un triangolo in basso triangolare inferiore diagonale se lo è entrambi se sono zeri ovunque è così ecco se i nomi delle matrici cioè sono un'infinità ok un caso particolarino è una matrice identità che equivale in pratica al nostro numero 1 ossia una matrice che ha solo unisfo diagonale e 0 altrove perché dico che è come il nostro numero reale 1 perché si comporta in pratica come il numero 1 1 per x uguale a x l'identità per una matrice fa quella matrice 1 alla meno 1 fa 1 con qualsiasi cosa intenda alla meno 1 e anche l'identità alla meno 1 fa l'identità ossia all'inversa ma non sappiamo ancora cosa è la matrice inversa come si fa la somma di matrici beh devo essere la stessa taglia se no non puoi sommarle la cosa più facile è sovrapporle e far sì che ogni entrata si sommi con ogni entrata di un'altra cosa quindi deve avere lo stesso indice stesso pedice 1 1 1 1 2 1 2 1 seconda riga prima colonna con seconda riga prima colonna seconda riga seconda colonna con seconda riga seconda colonna e le proprietà delle matrici si vedono qua sono associative commutative esiste l'elemento neutro che è la matrice che ha solo zeri esiste la matrice identità esiste l'opposto esiste il prodotto tra matrici ma il prodotto tra matrici non è commutativo questa è una peculiarità importante prodotto per matrici allora il caso più semplice abbiamo una matrice 1 per 1 ossia un numero quando io moltiplico un numero con la matrice ogni sua entrata viene moltiplicata per questa matrice con questo fatto qua i determinanti sono molto importanti e ok il prodotto da matrice invece prima di vederlo guardiamo come si fa allora piccola rigoletta vogliamo fare A per B A vale N per M N righe M colonne B non lo sappiamo come vale ma il problema deve essere definita così M per W ossia il numero di colonne della prima deve essere un numero di righe della seconda questo perché il prodotto tra matrici il caso base ok si scrive questo posso toglierlo ah bello si può anche un bengadire no 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 fuck va bene ok quindi primo elemento per il primo elemento il primo elemento della riga con il primo elemento della colonna a cui devo sommare il secondo elemento della riga per il secondo elemento della colonna il terzo elemento a cui sommo il terzo elemento della colonna della riga per il terzo elemento della colonna quindi sto facendo un prodotto che in realtà dipende solo questo vettore riga e solo questo vettore colonna infatti si chiama prodotto riga per colonna ed è per questo che io devo ottenere numero di colonne uguale numero di righe vi faccio vedere come non verrebbe facciamo una matrice che sia 1 0 0 non lecite mai 1 0 0 1 1 1 quindi questa è una matrice che vale 2 2x3 facciamo finta di sapere moltiplicare per la matrice 2x2 per la matrice che vale 1 1 1 1 ok 2x2 questa cosa non si può fare e vediamo perché allora quindi dovevi fare il primo elemento della riga per il primo elemento della colonna 1 1x1 fa 1 a cui devo sommare il secondo elemento della riga con il secondo elemento della colonna più 1 a cui devo sommare il terzo per il terzo ma non c'è allora andiamo a vedere come si fa facciamo finta che sia così ok quindi vi ho detto che abbiamo 1x0 più 1x1 più 1x0 più a sto punto ho 0x1 li sommo tutti e li scrivo qua poi devo fare la stessa cosa però con la seconda colonna quindi fare 1x1 che fa 1 più 0x1 che fa 1 più 0x1 che fa 1 li sommo tutti e ottengo lui e adesso la seconda cosa abbiamo 1x1 che fa 1 più aspetta facciamo così 1x1 scrivo 3 volte quindi fa 3 e lo scrivo solo cambiando il calore per essere simpatico ok più questa per l'altra colonna sono uguali i calcoli ma 3 abbiamo ottenuto una matrice 2x2 comunque se qualcuno di voi sa già qualcosa dovrebbe ricordarvi il prodotto scalare tra vettori perché quello è abbiamo ottenuto questa qua una 3x2 una 2x2 cioè ad aspettarselo sì perché 1 potevamo fare il prodotto dato che queste qua sono uguali allora su queste qua sono uguali la matrice che otterremo sarà il numero di righe della prima per il numero di colonne della seconda voilà 2x2 ok 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 adesso domanda sulla commutatività ha senso dire che le matrici sono commutative? pensate allora questo qua è un nome che dice a 2x3 per b 3x2 quindi si dovrò fare la commutazione è 3x2 per a 2x3 posso farla ma pensate che questa qua fosse stata 3x5 3x5 avrei ottenuto 3x5 b e a 2x3 e quindi non ha senso neanche forse la domanda se sono commutative alcune volte non possono neanche fare il prodotto quindi no ma se lo fossero se fossero delle taglie giuste possono essere commutative? possono essere ci sono si chiamano matrici pendolari quelle che fanno ab uguale ba e la loro definizione è che il commutatore di ab ossia che appunto ab meno ba faccia 0 vabbè però robe future no questa non è una regola generale e questa è una bellissima cosa noi sappiamo la legge del nonamento del prodotto un numero a per b fa 0 se secondo se o a uguale 0 o b uguale 0 però se nei matrici a o b fa 0 non non significa che a sia 0 o che b sia 0 perché quella con la matrice 0 una matrice composta da tutti i 0 nasce da quando le entrate delle varie matrici si compongono si sommano fanno cose in modo che ogni data annulli quadrata matrice quindi una di questi geometrici sarà uno dei divisori di 0 ne esistono infiniti vengono chiamate matrice divisore di 0 per il futuro una matrice si dice nel potente se esiste un numero intero tal che a alla n faccia 0 non tutte le matrici sono impotenti è come dire infinitesima se io ho un numero alla x quando faccio detenere questo quadro infinito bene se il numero è più grande di 1 tipo è 1,1 allora la tenda più infinito non mi interessa se è 0.9 allora che è più piccolo di 1 ogni volta che lo modifico per se stesso diventa sempre più piccolo e si stende a 0 però questa è l'analisi ci abbiamo fatto i video apposta ok le matrici uguali esistono alcune matrici che sono infinitesime ossia che a alla n non è che tende a 0 fa proprio la matrice 0 da un certo numero in poi quindi magari a alla 1 è diverso da 0 a alla 2 è diverso da 0 a alla 3 uguale a 0 se io faccio a alla quarta non chiedetemi cos'è perché a alla terza per a ma questa fa 0 e qua non è la legge del numero che ho voluto qua è proprio 0 è proprio una matrice quindi fa 0 quindi qual è questo n? n è il più piccolo numero per cui succede è l'indice più piccolo si chiama indice di nipotenza ok poi parliamo di matrici trasposte allora cos'è una matrice trasposta? prendiamo una matrice che ho già scritto ok e ci aggiungo una t non è una potenza di solito la scrivo a sinistra io si chiede così di invertire le righe con le colonne quindi io ho le mie righe 1 1 e le mie colonne 3 3 da notare che gli elementi sulla diagonale devono rimanere gli elementi sulla diagonale mentre invece gli altri vengono mandati nel rispettivo simmetrico ok questa è la nostra matrice trasposta e già che ci siamo un secondo fa parlando di numeri complessi io posso avere una matrice che abbia per esempio questa entrata che è complessa nulla mi vieta di avere numeri complessi le matrici possono essere di qualsiasi campo e perfetto la trasposta l'ho scritta ma adesso se io facessi questo strano simbolo è una sorta di spada con manico ok si chiama dagger sto chiedendo di fare la coniugata trasposta quindi prendo una matrice la traspongo e ne calcolo per ogni entrata il coniugato complesso quindi loro non hanno parte immaginale non cambierà niente questo invece voilà deve cambiare segno ok tenetelo a mente lì il coniugato complesso si usa tantissimo comunque andiamo avanti e ok proprietà delle trasposte la trasposta della somma è la somma delle trasposte la trasposta di lambda volte una matrice è lambda volte la trasposta della matrice la trasposta del prodotto è la trasposta della seconda per la trasposta per la prima questo si sbaglia sempre e se io traspongo una cosa due volte ci ritorno dove sono partito ok va bene va bene va bene possiamo quindi abbiamo visto che possiamo riscrivere gli stemi lineari ma anche non lineari ma quello è una cosa un po' più complessa con quei tensori e in questo modo abbiamo una matrice dei coefficienti una matrice delle variabili e una matrice se vogliamo dei termini noti se ce ne sono ok come si risolvono le matrici no ok prima parliamo delle matrici quadrate in particolare le matrici quadrate per chi di voi c'è un occhio sa già perché si studia no perché rappresentano gli endomorfismi cosa è un endomorfismo non lo sappiamo ma guardate che ci interessano sono le funzioni da sé in sé no tutte i polinomi che avete mai risolto di solito sono da R in R o da C in C e ok parlando di matrici dobbiamo vedere quando una matrice è invertibile ok una matrice è invertibile quando esiste la sua matrice inversa e la matrice inversa deve commutare con la sua matrice sia a destra che a sinistra quindi deve essere una matrice pendolare AB uguale BA ma non solo il loro prodotto non deve fare roba minchia deve fare proprio la matrice identità quella con tutti gli endomorfismi diagonali 0 altrove allora chiamiamo questa qua P la chiamiamo A-1 come si trova metodo 1 stupido ho una matrice 1-1-1-1 io devo verificare che a destra per una matrice A-B-C-D gli faccio la matrice d'identità ma non solo devo anche verificare che A-B-C-D perché ho questo puntatore schifoso per la matrice 1-1-1-1-1 gli faccio la identità quindi se vogliamo abbiamo qua un sistema faccio riga per colonna e ottengo A-C e devo ugualiarla alla prima entrata di questa matrice che è 1-0-0-1 quindi A-C-D uguale 1 poi abbiamo B-D uguale 0 A più C uguale 0 e vabbè sarà impossibile B più D uguale 1 provatela se riuscite ma anche da qua quindi otteneremo un sistema abbastanza brutto questo è il metodo che non si usa per trovare le diverse ok allora ora parliamo di matrici elementari le matrici elementari sono delle matrici che sono la matrice identità cambiata in qualcosina cos'è quella qualcosina? allora primo caso ho scambiato una riga con un'altra ho scambiato una colonna con un'altra ok la chiamiamo matrice E-I-J ho scambiato qua la riga I-esima con la riga G-esima poi la chiamiamo E-I di lambda quella che ho preso dalla matrice della riga I-esima e l'ho cambiata con la riga lambda volte se stessa quindi infatti ho preso l'identità un numero di quegli uni l'ho moltiplicato per un certo numero e poi abbiamo E-J di lambda E-I-J di lambda ottenuta così prendo una riga e ci sostituisco una combinazione di linee dell'altra quindi la cosa importante è che al posto della riga 2 io qua ho fatto riga 2 meno 3 volte riga 1 è importante che io non faccia operazioni del tipo 2 riga 1 2 riga 2 meno 3 ok deve essere una volta R1 più lambda volte perché se no non è una matrice del tipo E-I-J lambda e non valgono le proprietà nei sistemi di Gauss questa cosa è importantissima si cambia il determinante si cambia il risultato di equazione di un sistema ok si va bene va bene questo è un è il metodo di Gauss non lo spiega lo spiego io ora che abbiamo questa cosa qua noi possiamo prendere una matrice e dire riusciamo a trasformarla in una matrice triangolare al di là di cosa rappresenta un sistema un tensore una metrica allora si si può sempre basta operare con queste tre matrici ok e quindi l'importante è scriversi ogni volta i passaggi per esempio alla riga 2 io si dico la riga 2 più tre volte la riga 1 perché perché ho fatto in modo che si annuli il primo coefficiente questo numero qua l'ho fatto io a cacchio no ho fatto in modo che ovviamente ho un meno 3 e un 1 qual è quel numero io devo fare la riga 1 quindi quel meno 3 non posso cambiarlo più alfa volte la riga 1 qual è che si annulla meno 3 più alfa ma quando è che fa 0? ah quando alfa uguale 3 quindi devo fare riga 1 più alfa volte riga 1 riga 2 più alfa volte riga 1 quindi r2 più 3 r1 ok questo è l'algoritmo di Gauss semplificate così e potrete sempre ottenere una matrice fatta a gradoni potrebbe essere diagonale subadiagonale una triangolare superiore vi sfida ottenere una triangolare inferiore e una matrice di zeri la cosa importante è che non cambiate tipo 2 r2 più 3 r1 allora quella non è un'operazione di Gauss e vi cambia nei sistemi le cose la matrice la toltre le stesse ma no ok adesso usiamo questo metodo risolutivo di Gauss per vedere come si fa per i sistemi scriviamo sui coefficienti dell'equazione li buttiamo in una matrice la semplifichiamo con Gauss e vediamo che la matrice semplificata ha le stesse soluzioni dell'altra grazie al cazzo perché a cosa equivalgono le operazioni che abbiamo fatto a sommare le equazioni a dividerle a moltiplicarle a scambiare di riga se io scambio due righe in una matrice equivale a scambiare due righe in una in uno sistema di equazioni quindi grazie al belino che non non mi stai cambiando quali sono le soluzioni e sono lo scambio di una matrice cioè x più y non uguale a 0 e y uguale a 0 posso dire in entrambi gli ordini ma se c'è una parentesi graffa non cambia ok ma papapapam cosa sono i pivot i pivot sono i primi elementi non nulli di ogni riga e una matrice totalmente ridotta si chiama così se i tutti pivot sono 1 quindi ho una matrice a gradoni infatti in qualche modo a gradoni e i tutti pivot sono 1 si può sempre ottenere una cosa così esercizio esercizio no cosa che dice no vabbè ok adesso abbiamo citato le matrice elementari a cosa servono se io fate finta che semplificando con gauss ottenessi la matrice identità ah figata cioè sarebbe l'apoteosi no una matrice con soli 1 sulla diagonale cosa mi dice questa informazione riguardante la matrice inversa che se io prendo la mia matrice e la moltiplico a sinistra per tutte le matrici e i j di lambda che ho usato allora il prodotto di tutte quelle matrici lì aggiunta a sinistra per la matrice a questo un partito fare identità ma quindi io posso chiamare e 1 per 2 per 3 fino a e con k posso chiamarla la matrice inversa e voilà abbiamo trovato la matrice inversa non lo faccio questo immagino cosa significa in valori completi lascio la pagina che si fa così ho una matrice che è 3 1 2 0 0 0 1 0 2 2 0 0 va bene brutta così primo passo vogliamo ottenere no ecco vogliamo ottenere una matrice che sia a gradone quindi posso fare per esempio invertire le righe 1 2 0 0 3 1 2 0 0 0 1 0 perché questo perché adesso posso zio vi lascio anche un po' più di spazio porca vacca ok adesso posso fare per esempio riga 1 anzi no riga 2 meno 3 volte riga 1 quindi riga 2 meno 3 volte riga 1 non posso metterci qua un altro questo non posso mettercelo quindi cosa ottengo la prima rimarrà sempre 1 2 0 ma adesso abbiamo 3 meno 3 volte 1 che fa 0 1 meno 2 volte 3 quindi 1 meno 6 che fa meno 5 2 0 poi abbiamo 0 0 1 0 ok vogliamo ottenere l'identità dobbiamo sottrarre per esempio a questa alla seconda riga 2 volte la terza quindi otteniamo uno qua 1 0 potremo dividere questo qua per meno 5 e quindi qua otteneremo un meno 1 e potremo ottenere qua sommare queste qua e otteniamo qua un 1 poi le risommiamo e otteniamo uno 0 qua e poi ottengo uno voilà si può sempre ottenere una cosa del genere quanti pv ha? 1 2 3 e non posso fare altre domande per adesso ok adesso scrivendomi i passaggi che avevo fatto posso ricavare la matrice inversa però devo fare un prodotto di tante matrici quindi se voi invece che ok se voi invece che fare così vi scrivete la matrice però devo farla quadrata scusatemi se no non è un po' invertibile cosa stavo per fare ok se voi vi scrivete la matrice identità e quando fate i passaggi e li fate anche sulla matrice identità otterrete quello che ho ottenuto prima 1 1 0 con tutti i 0 qua e però ottenete uno schifo qua bene quello schifo è la vostra matrice inversa senza stare a fare il prodotto delle matrici permutazioni qua cominciamo a parlare determinante sono una figata soprattutto sulle formule grosse cosa allora cosa sono le premutazioni sono delle applicazioni vigettive cioè invertibili no non lineari non è detto che siano lineari e da i numeri naturali ai numeri naturali da una ridotta di numeri naturali deve fermarsi a un certo numero ok esistono permutazioni cicliche non cicliche semicicliche a triangolo buco volete e cosa fanno spostano l'ordine delle cose quindi per esempio questa permutazione qua ci manda l'1 in 2 il 2 in 3 il 3 in 1 e il 4 in 4 ecco perché devo essere definita jn in jn perché se fosse definita jn in jn più 1 ok in pratica devo far stare 5 numeri in uno spazio di 4 o viceversa poi e quanti modi ci sono per fare gli scambi qua abbiamo bisogno di calcolo numeratorio abbiamo n fattoriale modi questo è super importante quindi se io ho un insieme di tre numeri 1 2 3 quanti ci sono in modo di ordinarli sono 3 fattoriale quindi 3 per 2 per 1 che fa 6 perché? perché posso attivare i numeri come 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1 e basta senza fare ripetizioni poi c'è anche la formula con ripetizioni ok è importante che sia biggettiva perché se è biggettiva allora è invertibile e l'inversa è molto facile è quella che ti manda per esempio in quello che abbiamo visto ti manda al 4 in 4 ti manda all'1 in 3 ti manda al 3 in 2 e ti manda al 2 in 1 e tu puoi sempre invertire una premutazione e anche questa qua sarà invertibile e ok il gruppo delle premutazioni la composizione ok va bene i cicli non ci interessano ok la segnatura è questa schifo qua cosa significa? in pratica puoi assegnare a ogni premutazione un numero che vale 1 o meno 1 in particolare un esempio l'assegnatura della identità o cos'è l'identità? è quella premutazione che ti manda l'1 in 1 il 2 in 2 il 3 in 3 il 4 in 4 il 5 in 5 e così via per sempre è 1 e in realtà questa formula qua come si calcola? si fa così prendiamo per esempio 1 2 e vediamo questa qua 1 3 2 come l'ho ottenuta? ho dovuto fare uno scambio ho invertito uno 2 allora assegno sgn di sigma sgn di sigma e assegno il valore meno 1 mentre se la premutazione mi fa fare per esempio 3 1 2 qua in realtà se volete ho fatto due scambi quindi ho dovuto scambiare ho fatto ok ho dovuto scambiare loro due allora ho fatto uno scambio ah no perché non parto qua non mi tornava ok partiamo da 1 2 3 ovviamente quindi ho dovuto scambiare loro due per esempio ottenendo la la coppia 2 1 3 e poi ho dovuto scambiare loro due quindi ho fatto due scambi allora definisco il segno di sigma uguale a 1 ok quindi un numero dispari di scambi vale meno 1 un numero pari di scambi vale più 1 dette in altri modi se la premutazione è ciclica vale 1 non ciclica ma meno 1 cosa significa ciclica? io posso prendere questo 3 e spostarlo davanti quindi ottengo 3 1 2 lo risposto davanti 2 3 1 lo risposto davanti ottengo 1 2 3 queste qua sono quelle cicliche quelle che invece proprio mi cambio solo un elemento non sono cicliche quindi per esempio 1 2 3 4 se io ottengo 1 4 3 2 non c'è moto che io l'abbia tenuto spostando lui in cima quindi qua e continuando il giochino perché il 4 deve stare tra la 3 e l'1 diciamo male quindi in mezzo in mezzo ma non così cioè perché se invertissi anche lui ottengo questo ok non c'è modo che ottenga questa cosa qua riesco a scappare sempre i tempi sbagliati perfetto perfetto allora abbiamo la composizione di premutazioni la segnatura è il prodotto delle singole segnature cosa ci serve? ci serve ok questo non ci interessa dopo predeterminante predeterminante è questo è la sommatoria data una certa premutazione del segno della premutazione quindi è un più o meno 1 però occhio di cosa? di A con 1 quindi prendo della matrice la prima iga e quale colonna la colonna me la sceglie la premutazione con il numero 1 poi devo moltiplicare per la seconda riga e la colonna mi dà la seconda combinazione della premutazione ok va bene si si chiama prodotto dedotto cosa significa? mi sa che forse avevo fatto un video ma devo fare per esempio facciamo una cosa breve A 3x3 ok quindi ho una premutazione sim ma che mi deve cambiare 1 2 3 quali sono i possibili modi? 1 2 3 1 3 2 fine 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1 devo contarli? no so che sono 3 fattoriali quindi sono 6 1 2 3 4 5 6 ok mi calcolo il segno di questo questo vale lo scrivo solo così S G N questo vale 1 questo vale meno 1 perché non è ciclica questo non è ciclica ma vale meno 1 questa è ciclica vale 1 questa non è ciclica vale meno 1 questa non è ciclica vale meno 1 ok in sé che c'è qualcosa che non va perché dovrebbe essere 3 e 3 invece che sono 4 e 2 allora questa è lei qua devo fare cosa ha uno scambio vuol dire che vale boh ok chi se ne pote allora il determinante di A è il segno della prima premutazione ok che vale 1 per A con 1 e la prima premutazione mi manda 1 in 1 poi abbiamo A2 la seconda me la manda in 2 più A3 e la terza me la manda in 3 poi a cui devo sommare è una sommatoria è una sommatoria devo sommare il segno dell'altra meno 1 ok passiamo A1 A2 A3 vediamo dove dobbiamo finire 1 viene mandato in 1 il 2 viene mandato in 3 e il 3 viene mandato in 2 più devo aggiungere il segno che a questo punto forse è sbagliato della terza A1 A2 A3 dove viene mandato il primo A1 viene mandato in 2 A2 viene mandato in 1 A3 viene mandato in 3 ok così così fino a sommatori di 6 termini qui in realtà c'è un altro modo per scriversi il determinante è la sommatoria del segno della premutazione per la produttoria di A con I segno di I voilà più compatta e più brutta il determinante è una funzione particolarissima è l'unica nel suo genere che ha le caratteristiche che ha vediamo un po' di case particolari siccome si calcolano le cose allora se la matrice è diagonale allora semplicemente se io ho A1 2 mi fa 0 e quindi quel prodotto dedotto mi farà 0 quindi cosa che rimane rimango solo le cose diverse da 0 ossia gli rimedi sulla diagonale il determinante di identità è 1 perché ho una produttoria di 1 ma anche se una matrice triangolare è superiore e inferiore allora posso semplicemente fare il prodotto degli rimedi di fra diagonale sia inferiore che sia superiore che inferiore se è nulla il determinante uguale a 0 se io moltiplico una riga una colonna per una costante allora il determinante è quella costante per il determinante occhio perché non pensate che di avere una matrice lambda a lambda coefficiente a matrice il determinante sia lambda volte il determinante a matrice no perché abbiamo visto che ogni volta che io moltiplico lambda per a in realtà sto multiplicando tutti gli elementi per il coefficiente quindi ogni riga è moltiplicata per un coefficiente quindi in realtà il determinante di lambda volte a è lambda alla n per il determinante di a ok se scambio due righe allora il determinante cambia segno questo è l'antilinearità rispetto allo scambio di righe ok allora poi altre proprietà due righe uguali o proporzionali allora il determinante fa 0 questo perché la sommatoria dei prodotti ridotti si annulla ok adesso teniamo in ballo le matrice elementari il determinante di a per una matrice elementare tipo aj vale meno il determinante di a il determinante di a per una matrice e i di lambda vale lambda volte il determinante di a era quella che moltiplicava un numero per lambda e il determinante di aj di lambda vale lo stesso ed ecco perché io vi dicevo di non di non fare alfa volte una riga più metà volte un'altra ma solo fare una riga più alfa volte un'altra perché sennò questa cosa qua cambia determinante ok a cosa ci serve per vedere se le matrici sono invertibili se il determinante è 0 la matrice non è invertibile questo perché ci sono alcune dighe che sono dipendenti da loro ok il teorema di Bineci dice che il determinante del prodotto è uguale al prodotto dei determinanti queste cose qua sono molto belle e il teorema di Laplace ci spiega come calcolarlo senza stare a fare la sommatoria del segno della premutazione per la produttoria di aponi della premutazione diesima lo sviluppo di Laplace lo si può fare per righe e per colonne quindi si sceglie una matrice e si deve scrivere così assegniamo faccio questa griglia qua solo per capire la formula è più che esaustiva ma allora calcoliamo i determinanti di questa roba qua devo scrivere il segno di quell'elemento il segno è dato da meno 1 alla numero di riga più colonna oppure alla numero di riga più 1 oppure vi imparate la schermettina più o meno più o meno più o meno tanto basta fare quindi è meno 1 alla 1 più 1 che fa 2 ed è questo più questo simbolo questo calcolo deriva da questo più per l'elemento dove ci ho messo la croce quindi è un 3 per il determinante della matrice tenuta cancellando questa colonna e questa riga quindi non lo calcolo lo scrivo 0 1 2 0 adesso devo fare più cosa avrei per esempio deciso di farlo stupidamente sulla prima riga devo finire la riga più più meno 1 alla seconda riga prima colonna ottengo 3 ossia un meno 1 ma questo meno 1 o lo calcolo così in modo stupido o è già calcolato così è questo meno per cosa? per il coefficiente che è qua sotto cioè è un 1 per il determinante della matrice ottenuta cancellando riga e colonna ossia il determinante di 0 1 1 0 che vale meno 1 fate ad occhio e più lo scrivo basta lentezza fino alla certa ok questo ci semplifica i calcoli perché il determinante di una 3 per 3 ci corrisponde a 3 determinanti 2 per 2 ma rimetterci 2 per 2 noi sappiamo fare a occhio perché siamo intelligentissimi cioè a b c d e terminante è a d meno b c questo per questo meno questa per questo lo potete verificare che è uguale al teorema di Laplace al sviluppo con la produttoria della sommatoria ok questo è il primo tema di Laplace per il secondo tema di Laplace invece ci dice che se faccio sommatoria di un numero di un elemento in una certa riga per il complemento di un'altra riga e li sommo tutti no? di tutta la riga ottengo 0 perché mi spiega prima cosa è l'aggiunta perché il secondo tema di Laplace si dimostra con l'aggiunta cosa è l'aggiunta? avete presente che prima io vi ho chiamato una matrice trasposta coniugata ok anche quella si chiama aggiunta ma non è questa aggiunta e il problema è l'italiano perché in inglese esistono due termini che sono adjugate e adjoin direi adjugate sta per questa qua che di cui stiamo vedendo adesso mentre adjoin è l'altra cosa succede? l'aggiunta è una matrice ridotta quindi per esempio questa qua anzi no mi spiego un attimo meglio che è giusto spiegarsi meglio qua l'aggiunta è una matrice in cui in ogni entrata in ogni elemento A con N N A con I ok ci stiamo intendendo viene sostituito il suo complemento algebico ossia quello che vi dicevo io il coefficiente meno 1 alla riga più 1 o riga più colonna ok o o ricordate per il determinante della sottomatrice ottenuta cancellando riga e colonna se io calcolo questa merata di palle pazzesca per ogni elemento della matrice e lo sostituisco fate finta quanto è che vale questo qua vale 1 e lo ritengo 0 meno 2 1 per meno 2 fa meno 2 ok se io faccio una matrice dove al primo elemento sostituisco meno 2 e lo faccio così per tutti gli altri questa la posso chiamare A star che è la matrice aggiunta ok cosa mi serve per l'aggiunta mi serve per quindi secondo il tema di Laplace calcolare l'inversa perché basta fare l'aggiunta diviso il determinante di A rimpiangete il metodo di riluzione di Gauss tra poco c'è anche un metodo più brutto per calcolarsi ok cazzo sono alle 8 di sera a quanto sono di registrazione vabbè ok parliamo di rango ok non ci penso nemmeno a chiamare la caratteristica si chiama rango rho di A ed è ed ecco è una caratteristica delle matrici allora viene definita come la taglia più grossa di una delle sottomatrici che abbiamo visto ok in particolare in realtà puoi ottenere quelle matrici in tutti i modi cancellando anche più righe fate finta di avere una matrice 4x4 se no dai una matrice 20x20 che ha per esempio 1 1 1 e poi da qua in poi sono 20 righe di 0 0 0 0 ok io calcolo determinanti cancello una riga una colonna e mi viene a 0 calcolo determinante riga colonna mi viene a 0 continuo a cancellare 2 3 4 5 righe finché non ottengo per esempio una matrice identità ok chiedere per 3 allora il rango di questa matrice è 3 questo è importante per i teoremi che si chiamano quelli importanti tipo nullità più rango giusto per cosa vediamo prodotto matrice elementare per matrice non cambia il rango prodotto numero per matrice allora non cambia il rango e se la se a è rettangolare b è invertibile e c è invertibile il rango di a è uguale al rango di b a c ok ok teori di Michael Ecker avremo prima bisogno di parlare dell'orlatura ma qua a quanto pare prima si fanno le cose poi si spiegano abbiamo una matrice a è proposto a cosa bella che il rango lo puoi calcolare di matrici non quadrate perché è una caratteristica della matrice proprio come elemento geometrico non come caso particolare di un numerino che posso affiancare a una matrice ha un significato geometrico ben preciso con una dimensione di un certo spazio ok il teorema di Michael Ecker ci dice che se esiste un minore di dimensione t che non si è nullo e se io orlo quel minore in tutti i modi allora e se tutti quei minori che ho calcolato sono 0 il rango è proprio l'ordine t che ho visto ok per esempio questa matrice il primo minore 1 2 0 1 è diverso da 0 perché vale 1 ok devo orlarlo in tutti i modi dovrei orlarlo in come dovrei orlare aggiungendo una riga e una colonna due righe due colonne due righe tre colonne tre righe tre quattro colonne ma in realtà c'è una cosa bella perché fate finta che io ho calcolato ah un po' stanno indietro ok ah minchia stavo scopendo così grande 1 2 0 1 ok gli temi di questa roba qua vale 1 e questa qua è una 2x2 dovrei adesso vedere se le 3x3 tutte le varie 3x3 che ci sono hanno dei valori nulli ma anche quei dei 4x4 e qua sono un sacco dei 5x5 ok fino alla n per n che in realtà n per n che in realtà è solo un'unica matrice il teorema mi dice oh zio se tutti questi qua sono 0 non stare ad andare a calcolarti questi faranno tutti 0 quindi l'unico il più il più grande per cui vale è quello che tu hai calcolato ok teorema di cramer questo è utile per risolvere i sistemi se a è invertibile allora è sistema ax uguale al b posso moltiplicare a sinistra per a alla meno 1 e avrei a alla meno 1 per a per x ma a alla meno 1 per a fa l'identità quindi identità per x uguale alla meno 1 per b ma l'identità per x fa proprio x quindi tengo x uguale alla meno 1 per b ma un secondo fa abbiamo visto cos'è alla meno 1 ossia a aggiunta per b diviso il terminante di a oh mio dio quindi per risolvere un sistema lineare che era una cagata devo calcolarmi un infottio dei terminanti no 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 questo è il teorema o cioè esercizi che sono più facili basta fare così dato che è un vettore colonna x con n soluzioni come è che ottengo queste n soluzioni basta in realtà che io prenda la colonna dei terminoti la butti al posto della prima colonna di a calco i determinanti di questa matrice lo divido per i determinanti di a e ho trovato la prima soluzione la seconda è data prendendo la colonna dei terminoti la buttola è a seconda colonna di a ne calco i determinanti e avete capito il giochino cosa voilà ok altro teoremozzo completo abbiamo sempre un sistema a x o uguale a b e ci dice che la soluzione si è stando a sé il rango di a è uguale al rango di a a cui ha aggiunto la colonna di b in particolare se i due ranghi sono uguali a t allora ci sono infinito alla n basta e ora ci sono infinito alla n meno t che cosa significa infinito meno t significa per esempio in un vettore che vi ho detto prima immaginate avere un sistema che vale x più y più z uguale a 5 ok trovami questi tre numeri magici che la somma fa 5 ma zio ce ne sono un sacco non solo ma anche se ti mi dicessi fissa x x vale 0 trovami dei numeri x più y a cui la somma faccia 5 zio ce ne sono sempre infiniti cioè quell'infinito dipende da quanti parametri beh in realtà ne ho due perché se io ne fisso uno allora esistono limite soluzioni quindi se ne fissassi uno avrei x più y più z uguale a 5 allora posso esprimere per esempio z come 5 meno y meno z z spero devo avere l'inverto le righe ok quindi cosa rappresento queste infidolati sono il numero di variabili che non sono fissate che sono libe di variare per esempio nella cosa che abbiamo detto x si chiama variabile ma è fissata perché vale 5 meno y meno x mentre invece y e z sono liberi di variare quindi sono le variabili libere voilà questa roba sarà lunghissima ok no vi prego vi prego no 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 le coordinate le sappiamo diciamo così va ah questa è carina allora la norma non l'abbiamo ancora vista però avete visto che è x quadro y quadro ok se voi pensate in r2 o in r3 potete potete avere dei segmenti quanto sono questi lunghi quanto sono lunghi questi segmenti potreste applicare il teorema di Pitacoro due volte e ottenere che la distanza è la radice quadrata di cosa della x del primo meno la x del secondo al quadrato più la x la y del secondo meno la y del primo al quadrato ok così avanti quindi una cosa bella è che possiamo dire che la distanza tra due punti è la la norma della differenza dei vettori che rappresentano le coordinate le sappiamo le coordinate le sappiamo gli spazi di RNA sappiamo questa la sappiamo esercizi non li sappiamo fare i vettori non ci servono vettori operazioni su vettori dai raga testa coda si ottengono sposto a d su 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 b faccio così oppure regole parallelogramma vettori vettori prodotto scalare prodotto scalare adesso lo leggete come un prodotto di matrici in particolare mettete il primo vettore in colonna l'altro in riga e avete questo geometria analitica vediamo ok allora abbiamo tre punti siamo nel nel piano nello spazio se sono allineati allora quando io creo due rette no per esempio entrambe le faccio passare per a allora il loro prodotto vettore fa zero fa zero oppure posso costruire una retta che passi per uno e non passi per l'altro ok questo di nuovo ah questo troppo qua scava prodotto misto se ho quattro punti allora tre punti nello spazio sono di sicuro allineati quindi passa sempre un piano per tre punti per quattro punti non è detto ma se sono complenari allora si dedica a questa cosa qua che il prodotto vettore tra loro due delle rette che passano di c-a e b-a è ortogonale a p-a dato che il prodotto scalare ci rappresenta l'ortogonalità mentre invece il prodotto vettoreare è il parallelismo ok rette nel piano le sappiamo fare y uguale a più alfa volte x quello che non sappiamo fare è le rette nello spazio va bene ok le rette nello spazio devono essere dall'intersezione di un piano ok ci sono scusatemi devo essere nate dall'intersezione di un piano con un altro piano perché non c'è altro modo per rappresentarle se non in forma parametrica cosa significa in forma parametrica bisogna decretare che per esempio x o y o z una variabile valga una combinazione di un'area con il parametro se sei intelligente scegli uno una volta un parametro chiamato t e allora tu stai in equazione che vale per esempio x uguale a t ma quindi il sistema l'intersezione dei due piani che mi dà la retta deve cambiare e devo sostituire x uguale a t nell'altra ottenendo una nuova formulazione in cui ho x uguale a qualcosa y non uguale a qualcosa z uguale a qualcosa in particolare i coefficienti dei t sono i vettori direzionali della retta mentre invece i termini noti sono uno dei punti generici per cui passa la retta dato che in realtà una retta nello spazio se io do solo il coefficiente ne passo in infinite ma se io dico che deve passare per un punto allora è l'unica che ha quel vettore direzionale che passa per lì è fissata ok questo non possiamo sapere lo sappiamo retta fasci dirette allora i fasci no no non quei fasci i fasci dirette esistono esistono due tipi o paralleli tutte le rette che sono parallele quindi che hanno lo stesso coefficiente oppure di fasci nel senso fasci dirette che passano per un punto che hanno la forma di un fascio di spiglia ok com'è che si ottengono dobbiamo però farlo con i piani abbiamo una combinazione lineare dei coefficienti dei piani faccio adicolare che il coefficiente il vettore direzionale di un piano è quello semplicemente ax più y più cz è proprio abc ed è sempre perpendicolare al piano in pratica come se fosse il vettore direzionale della retta perpendicolare il che ci semplifica molto i casi qua surgettività non ci interessa ok questo è una cosa interessante quello che vi ho detto prima il prodotto misto lo si può scrivere sempre cos'ha gli intermianti della matrice in cui sono solito farlo per righe però per colonne hai le incognite meno le colorate del primo alla prima colonna sulla seconda colonna le colorate del secondo sulla terza colonna le colorate del terzo e se sono tutte appartienti al piano allora gli inferminanti devi fare 0 perché tre rette per un piano sono di sicuro combinazioni lineare quindi due righe sono proporzionali quindi fa 0 è bello è vero ok eccola una rappresentazione parametrica in cui è molto più comodo leggersi il versore direzionale perché è dato da più 1 meno 1 più 1 1 meno 1 1 aspetta sono tutte uguali queste cose mute opposizioni vogliamo veramente farlo? no due rette o sono parallele o sono perpendicolari nel piano nello spazio possono anche essere schemme quindi non sono parallele non sono perpendicolari non si intersecano non è impossibile è la cosa più più possibile in realtà che vedrete questa cosa sulle simmetrie non ve lo faccio fare perché non è che sono esercizi semplicemente devi calcolare a distanza punto retta ossia trovare una retta perpendicolare un'altra retta e farla passare per il punto e calcolare la distanza tra il punto di intersezione della prima e l'altro punto trovarsi simmetrico rispetto alla retta quindi le simmetrie non hanno questo grande ingegno la comune perpendicolare ha un grande ingegno e la disegno qua ok la comune perpendicolare indovinate cos'è è quella retta che è comune e perpendicolare per rette e la cosa bella che ho fatto un disegno schifoso adesso lo rifaccio queste due rette qua sono nello spazio e non si intersecano sembra intersecarsi ma sono una un chilometro dall'altra però esiste una retta che le unisce che le interseca e le unisce il segno si è fatto male ma ragazzi i segni nello spazio sono fatti male immaginatevi no che questo qua sia molto più in alto questo qua ci passa sopra ok qua la retta è perpendicolare entrambe come si fa a calcare questa retta non dovete ricordarvi le forme dovete ricordarvi il ragionamento ok voi prendete un punto di questa e un punto di questa come la fate? la fate in forma parametrica cioè avete t t t più 1 più 1 più 1 x y z per la prima retta e qualcos'altro per la seconda questo qua è il vettore direzionale della prima e questo qua della seconda più l'intersezione per un punto il passaggio per un punto allora voi considerate semplicemente tutte le possibili rette che le uniscono in tutti i possibili punti come fate tutte queste rette sono le infinite infinite rette è proprio giusto dire infinito infinite rette qua che nascono dalla differenza di queste due quindi prendete per esempio il vettore x fate x della retta a 1 meno x della retta a 2 poi fate y della retta a 1 meno y della retta a 2 z della retta a 1 meno z della retta a 2 e vediate questo vettore adesso dovete fare un po' di ordine dovete cancellare quelle che sono parallele quelle che si intersegono quelle che sono inclinate in questo modo com'è che fate dovete andare pian piano ok dovete trovare l'unica retta l'unica che è perpendicolare a entrambi quindi dovete prendere questa roba qua e imporre l'ortocolonità con il vetore dizionale della retta a 1 e della retta a 2 ossia che il prodotto scalare faccia 0 questo è un sistema da risolvere per entrambi così così cosa trovate la retta no minchia trovate dei valori di t e t primo dei vari parametri che poi sostituirete qua dentro e troverete i punti di intersezione tra la comune perpendicolare e le due rette due punti di intersezione uno tr e uno t s a sto punto fate la distanza cioè la retta per due punti voilà e basta questo è il ragionamento della comune perpendicolare distanza tra punti distanza punto piano easy prendete le copriate del punto le prendete nel piano e lo dividete per la norma del vettore dizionale del piano distanza retta e sghembe trovate la comune perpendicolare e calcolate invece che faccio passare una retta semplicemente calcolate la distanza oh circonferenza sfere allora circonferenza la vedremo come conica e sfere la vedremo come quadrica come elissoide e vabbè e circonferenze x quadro y quadro uguale un numero positivo quel numero positivo è il raggio se non l'avete scritto in questo modo l'avete scritto cos'ha perché alfa beta gamma state spostando gli assi quindi sono shiftati nell'origine di là quindi alfa beta gamma è l'origine della vostra sfera rho al quadrato è il raggio al quadrato e per passare da uno all'altro basta completare i quadrati quindi se siete così completate i quadrati fate finta che ax sia il doppio prodotto e quindi aggiungete un a mezzi ma dato che lo aggiungete al quadrato avete anche toglierlo e lo sposto a destra è sempre ottenibile sta roba qua tramite completamente i quadrati con numeri tendenzialmente orribili quindi questo qua è il raggio e il centro è la tonnella 2 nella nel loro spazio però la sfera è idem con una variabile in più la circonferenza non è più così con una variabile perché sennò ottenete un cilindro eh beh bello bello perché pensateci ti punti che hanno per equazione sì che sono una circonferenza ma in R3 passano anche tutti i punti sull'asse Z al variabile di Z quindi ho ottenuto un cilindro eh un cilindro ellittico e ma lo vedremo dopo quindi la circonferenza come si intiene devo far passare un piano attraverso una sfera così in pratica la affetto e l'intersezione è proprio una circonferenza queste sono un po' di formulette queste sono formulette queste sono coniche che in realtà ci serva ci servirà dopo allora ragazzi sono una due tre quattro cinque sei e sette diciamo che vi risparmio e mi fermo qua